perché spazio interiore in out e similari non pubblicano integralmente le conferenze di corrato o non le pubblico integralmente o non le pubblicano affatto cosa succede perché non è una cosa nuova e io seguo corrado da tempo quando maranga perché non lo conosce ma tanto tutti quelli che stanno guardando questo video sicuramente sanno di cosa parlo e nel tempo mi sono dovuto iscrivere più volte a varie associazioni link siti per partecipare a conferenza per seguire e la cosa sta diventando sempre di più accesso esclusivo con dei contenuti dove tu devi essere iscritto a una piattaforma e a me questa cosa non va bene perché lui le cose le fa gratis le farà rimborso spese va bene però non è che c'è una villa forte di marmi e chissà che cazzo di vita fa fa una vita semplice dentro suo condominio e non ci guadagna nulla e persone invece cercano di guadagnare visibilità per poi farci cose che secondo me non hanno molto senso e quindi non mi va bene questa cosa non mi va bene perché poi le persone vengono per la conferenza vengono per ascoltare lui corrado vengono per fare delle domande queste domande gli piacerebbe venissero risposte quando è possibile perché sono tante le persone vogliono fare domande e c'è la registrazione registrazione però quelli di spazio interiore dicono che che non vogliono che venga fatta da terzi lo scrivono sul sito sul loro scrivono né video né audio perché tanto ci pensiamo noi e io anche se ho visto che altre volte non hanno pubblicato le conferenze però l'ultima dove sono andato a dicembre mi son detto vabbè ormai i tempi sono cambiati si sono organizzati bene con le telecamere non è più come una volta che si dimenticavano addirittura di portarsi la telecamera eh ormai sono altri tempi non non faranno come come al solito e invece hanno fatto come al solito quindi hanno pubblicato un intervento eh di sabato eh la sessione domande risposte non c'è perché la sessione domande risposte è vero che c'è la gente fa domande un po' lunghe ma eh Corrado sempre parla tanto anche lì e e quindi quella diventa un'altra mezza conferenza e e non c'è neanche domenica sia del tutta la l'intervento diciamo principale sia domande risposte non c'è quindi ho eh a un certo punto mi chiedo ma perché cioè devo andare lì pagare eh un servizio che loro ti impediscono di eh registrare a parte per te te lo impediscono non vogliono che tu lo faccia però poi loro dopo averti detto che ehm ci avrebbero pensato loro non ci pensano loro e questo non è che è successo una volta sola succede spesso allora adesso c'è questa novità delle piattaforme dove tu ti devi scrivere eh con contenuti esclusivi e dove tanta gente va là e dice noi siamo nudi solo per Corrado non ce ne frega un cazzo di tutto il resto e magari ci possono essere anche cose interessanti ma sostanzialmente la maggioranza delle persone eh non non vanno lì per altri motivi e quindi c'è questa cosa di fare queste piattaforme nel frattempo tu ti devi scrivere queste piattaforme ci devono essere perché per combattere la censura eh di YouTube dei poteri forti eh di quant'altro eh bisogna fare queste piattaforme e io adesso voglio spiegare perché questo eh questo sistema in realtà non è tanto funzionale le piattaforme alternative nel momento in cui uno eh smette di pagare il dominio eh scompaiono un giorno dopo l'altro non è neanche come la vendita dei libri che eh che uno paga eh che uno paga invece di avere pdf dice perché non fai direttamente in pdf gratuito lì almeno uno per dire c'ha il libro eh se la casa editrice fallisce gli rimane il libro la gente ha il libro qualcuno ha il libro un domani eh comunque qualcuno ha il materiale da parte potrà fare delle fotocopie delle scansioni non lo so ma se nessuno avesse il libro eh non non ci sarebbe più il materiale questo accade con le piattaforme ehm personalizzate dove comunque la persona che sta dietro deve rinnovare il dominio tutti gli anni e altrimenti eh quel servizio scade poi molti hosting si appoggiano su Amazon quindi eh se Amazon ci gira al culo di non di dire guarda tu questo sito non ci piace che lo tieni lì all'hosting di riferimento eh quelli e l'hosting ti potrebbero anche cacciare via quindi ehm cioè la resistenza alla censura non è una cosa che uno basta che va da un'altra parte e ce l'ha in ogni caso c'è un un pericolo di eh di di venirsi sabotati in qualche modo e un modo invece più efficace secondo me è quello di rilasciare le cose sotto pubblico dominio come ho fatto io tra l'altro io ho fatto eh tanti video concorrato dell'università di chimica ci sono delle lezioni intere che lo eh sono dato lì e lo registrate molte persone non sanno neanche che sono stato io a metterli lì non me ne frega niente perché io tanto non ho eh la capacità di spiegare quella chimica là quindi non è che posso dire seguite me perché io vi porto quello io non ve lo posso portare quindi semplicemente sono andato lì di mia di mia idea eh di mia idea eh e spontanea volontà sono andato lì ho fatto eh i filmati li ho montati con un ati a parte preso dalla schivania in modo che si sentisse di meno il vociare degli alunni e basta poi l'ho messi a condivisione di tutti sotto licenza eh riutilizzo consentito e e via mhm e così è resistente alla censura perché altri lo possono ricaricare lo possono tenere per sé l'ho messo anche su archivi punto org che uno può scaricare con torrent tutto l'archivio tutto insieme e son ben 22 eh lezioni più eh eh altre di insomma un bel po' di materiale alcune qualche audio me l'ha passato delle lezioni di chimica organica sostenibile me l'ha passato direttamente corrato e io senza montarci su una roba tipo ce l'ho io in esclusiva allora dovete seguire me perché se non seguite me non avrete altre esclusive senza fare tutto ciò ho messo semplicemente una roba con link e nessuno sa che l'ho messo io a parte chi proprio non ci va a guardare nello specifico e basta poi di quel sito lì che io ho scritto eh se c'è qualcuno interessato a argomenti di chimica organica sostenibile e vuole ampliare l'argomento io vorrei mettere altri video anche con altra gente e non m'ha contattato nessuno e va bene così eh uno mi potrebbe dire eh ma il gratis il non gratis io ti dico sì ogni cosa avrà i suoi costi e e allora in questo in questo caso eh posso rispondere questo eh se io devo fare un evento e devo pagare la sala la devo pagare la registrazione audio e video e quant'altro io basta che raccolgo eh attraverso i i posti a sedere della gente che viene basta che raccolgo i soldi sufficienti per pagare tutto ciò che poi il video lo posso rilasciare eh sotto licenza eh pubblico dominio condividi allo stesso modo ci sono vari tipi di licenze che eh che comunque permettono a gente di eh poterlo scaricare senza sentirsi in colpa e di poterlo ricondividere un domani e questo è il sistema per resistere alla censura tutto il resto anche se affascinante eh purtroppo in realtà non esiste una piattaforma che ti possa dire con garanzia eh noi esisteremo per sempre sia youtube facebook eh anche odc questa nuova quello che ti pare eh purtroppo eh non c'è nessuno che eh possa fare ciò e quindi il sistema migliore è che le persone un po' come quando uno si teneva le videocassette a casa delle robe vecchie e le persone possano anche mettersi su un hard disk il materiale e un domani poterlo ritirare fuori se non c'è più il sito internet e poi eh ha accorrato cioè tanta gente gli ha fatto siti internet di vario tipo e eh tanta gente che l'ha chiusi quindi c'era sentistoria qualcuno non so se c'è un altro sito però diciamo ha chiuso l'attività con lui sentistoria ufomachine eh coma o paid eh che aveva fatto un bel lavoro perché aveva messo a disposizione il un archivio con aveva messo a disposizione un archivio con tutto il materiale e niente sono passate due tre cose insieme mi sanno rompendo i coglioni quindi eh sono stati fatti questi siti poi a un certo punto hanno smesso di rinnovarli e non ci sono più con tutto il materiale poi è stata fatta una roba che alcuni l'avevano messa le ipdf su piattaforme tipo un po' a pagamento potevi tipo potevi leggere però non potevi scaricare o qualcosa del genere comunque non era totale accesso libero avevano messo questa cosa qui e e poi uno magari scriveva a Corrado il quale rispondeva no noi abbiamo messo tutto disponibile gratis solo che per trovare questo disponibile gratis che lui intendeva dovevi sapere dove andare e quando uno magari c'ha le idee un po' confuse non non ci riusciva subito io personalmente faccio così da oggi allora quando c'è un evento se mi dicono tu non puoi registrare né audio né video di sopra e di sotto eccetera per me quello è cattivo segno perché poi col materiale ci vogliono fare qualcosa perché quello che si sta dimostrando effettivamente non è una cosa mi sto inventando io adesso in auto ha messo il video i video della conferenza sta mettendo e però domande risposte e slide quelle che fa Corrado che rilascia lui liberamente dopo ogni conferenza e con con questa nuova piattaforma link yourself di in out non si può accedere al materiale e lui come risposta nei commenti ha messo che c'è un lavoro dietro che costa e quant'altro e allora io ho scritto che si va bene ma basta che uno raccogli soldi prima una volta fatto il materiale uno lo lo pubblica e basta li raccogli prima dei soldi per spesare il tutto e poi pubblica anche perché mi sembra di capire che ci sia un perché almeno prima in auto faceva che tu pagavi durante la diretta potevi fare delle domande da casa almeno c'era un servizio ok questa mi può sembrare una cosa un po più intelligente no però tutti gli altri comunque potranno fruire del discorso intero invece così adesso teoricamente per guardare le tre conferenze per intero che ha fatto sulle apparizioni mariane e quant'altro queste ultime che ha fatto bisogna per guardare per intero anche le domande le slide tutto quanto bisogna pagare mi sembra 15 euro quanto ho capito e e quindi considerando che sulla pagina facebook ricordato ci sono tipo 90 mila follower all'incirca quindi 90 mila per 15 euro mentre corrato non ci piglia una cippa e non dico che tutti e 90 mila stanno lì a pagare però sicuramente è un bacino di 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 utenza insomma un po grandicello no per aver registrato un video perché ma se lui c'è se fosse un'attività totalmente a pagamento se tipo una scuola una cosa io potrei anche capire ma siccome non è così siccome non è così allora si è sempre stato una cosa e lui ha sempre detto faccio le cose non per soldi allora le persone non devono speculare sulla sua immagine io ho dimostrato come fare nessuno sa quasi nessuno sa che quei video di chimica l'ho messi io non lo sa quasi nessuno e non ho speculato perché tanto non potrei darvi la lo stesso non è che poi ci sono io che divento insegnante chimica non ve lo posso dare quel servizio quindi è inutile oppure ci metto un altro che dice le stesse cose che dice lui che non è vero quindi si può fare si può fare io sono andato là 20 lezioni quindi vai lì all'università sono messo l'assetuto messo la telecamera in una mano registratore sul tavolo ho montato così ci sono stati grossi incidenti forse l'avrei potuto far meglio un po dal punto di vista forse la qualità avrei potuto migliorare forse sì forse no ci ho messo tutto il mio impegno con le poche risorse e chi allora come spazio interiore in auto o altri che lo fanno essendo pagati perché loro comunque prendono il biglietto che ci pagano la sala ci pagano le persone per gestire tutto immagino si paga ormai di media 20 euro a volta e quindi sono pagati per fare questo non capisco perché per mettere una telecamera su tre piedi e pubblicare un video ci siano sempre tutti questi casini personalmente lo ripeto ogni volta che ci sarà un evento probabilmente non ci andrò quasi mai più perché ormai fanno tutti così io personalmente se mi dicono no non si può fare di qua di là non ci vado perché poi devo dare soldi a un sistema che non condivido e mentre una volta si facevano incontri le persone che venivano potevano registrare magari non c'era nessuno quella volta e però si poteva registrare liberamente adesso non capisco c'è questo nuovo affanno laddove una volta il copyright era una cosa solo del dei grandi media e adesso ci stiamo trovando con con questi piccoli nuovi media che a loro volta non vogliono che la roba venga pubblicata altrove e quindi ci si rischia poi di trovarsi senza materiale l'improvviso perché nessuno più neanche mette sul vhs come si faceva una volta tutto sta online poi una volta che la piattaforma scompare scompare tutto il materiale quindi io vorrei che ci si riflettesse su questa cosa si riflettesse anche su tutti coloro che attraverso una figura di riferimento poi ci hanno messo su una cosa per poterci campare loro no per dire noi abbiamo fatto i filmati del maestro x e adesso quel materiale il nostro ma al quando era stato diciamo acquisito quel materiale non è che si era pensato a chi di chi dovesse essere il diritto di autore semplicemente sono persone che si sono autonominate eredi di cose che non erano loro e questo non va bene quindi penso di aver detto tutto tutto in modo in modo chiaro